Allora benvenuti, vediamo questo nuovo corso di Lua Il tutto veniva dall'idea di fare delle mod di Maintest e le mod di Maintest si possono sostanzialmente customizzare e scrivere con il linguaggio Lua Linguaggio di programmazione, se lo cerchiamo, quindi se cerchiamo Lua vedrete che abbiamo, dunque Lua, cerchiamo programmazione vedete che abbiamo, anche in italiano, la definizione di questo linguaggio quindi il simbolo è questa Luna, proprio perché Lua è stato creato in Brasile e quindi in Brasile Lua vuol dire Luna è alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro e ha attualmente una licenza molto permissiva che è una licenza MIT Il linguaggio Lua si presenta come uno dei linguaggi più semplici questo è un esempio di quello che si può fare per fare un cosiddetto hello world basta semplicemente stampare virgolette hello world, ciao mondo poi c'è un altro esempio di cui alcuni li vediamo anche adesso la prima cosa da dire è sostanzialmente che Lua, nonostante che pochi lo conoscano è abbastanza usato nei videogame in molti videogiochi quindi si può usare nella Playstation si usano in vari videogame abbastanza sofisticati si può usare anche in World of Warcraft Metin2 che non conosco Garry's Mod che è una cosa abbastanza interessante che si trova su Steam ma dal punto di vista che ci interessa Lua sostanzialmente si può usare in Minecraft ci sono due mod Computer Craft e Open Computers e eventualmente anche altre che usano questo linguaggio per fare delle modifiche a Minecraft oltre appunto MindTest da qui abbiamo anche iniziato quindi la cosa più importante è capire che Lua non è semplicemente un linguaggio secondario è un linguaggio abbastanza interessante apprezzato per la sua estrema velocità i programmi in Lua possono fare come vedremo anche in questo corso delle applicazioni grafiche che anche su un cellulare tipo Android o anche sul PC possono permettere di far girare dei giochi abbastanza interessanti a questo proposito vedremo anche un sistema, un framework con le piccole parti che si chiama Love Love lo vediamo lo possiamo anche cercare direttamente quindi Love 2D è un game engine molto interessante che permette di fare sostanzialmente un sacco di cose e anche dei giochini magari anche un po' vecchio stile ma non per questo meno interessanti e con i quali si può lavorare ora in questo primo video vi farò vedere che è possibile andare adesso entriamo in anonimo giusto perché è così vedete esattamente come si entra c'è un sito che si chiama repl.it il quale consente di fare degli esperimenti in diversi linguaggi noi sceglieremo il linguaggio Lua vi suggerisco anche voi di farlo poi vi suggerirà di autenticarvi con Facebook, Google, eccetera questo più che altro per per non perdere gli eventuali esperimenti che farete in questo video io entrerò in anonimo ma voi probabilmente entrerete con un account repl.it consente di sostanzialmente di fare degli esperimenti senza dover installare assolutamente nulla quindi quando entrate in repl vedrete che avete una parte di destra che è una console in cui potete direttamente scrivere e quindi il famoso ciao mondo ecco vedete che ho scritto l'istruzione stampami ciao mondo e lui mi ha scritto ciao mondo oppure posso anche scrivere un programma quindi posso scrivere ad esempio local a uguale a 1 poi faccio local b uguale a 2 e poi faccio print a più b vale se me lo lascio a scrivere vale virgola a più b questo è un piccolissimo programma che fa la somma di due numeri di a uguale a 1 e b uguale a 2 se lo faccio girare mi farà vedere a più b vale 3 cioè la somma di 2 e 1 allora con questo questo piccolissimo pillola di lua vi lascerei alla prossima puntata in cui cominceremo a fare qualche cosa sempre in ripple per usare l'ua in un modo un pochino interessante importante per aver guardato la somma di